l'ora esatta e offerta da se ami la tua casa visita il bellissimo showroom di edil 2000 cambieremo volto alla tua casa con le migliori firme di pavimenti rivestimenti sanitaria ridobagno scoprirai il reparto stufe e caminetti con personale qualificato per una perfetta installazione certificata edil 2000 strada serravalle a 9 ligure per risparmiare davvero e attenti da oggi centro del colore con pronta consegna di tinte e smalti personalizzati un bene ritrovati a tutti voi con l'informazione al meccanismo europeo di protezione civile coordina le principali emergenze in casi di calamità disastri sia ambientali che tecnologici e nelle conseguenze di atti terroristici si tratta di una struttura complessa che anche al suo interno una parte dedicata ai contributi a favore dei paesi colpiti un argomento che ha interessato la delegazione di amministratori alessandrini in visita per due giorni al parlamento europeo per capire anche come muoversi in caso di un alluvione oppure di un terremoto è una macchina imponente il meccanismo europeo di protezione civile creato nel 2001 il suo compito è quello di facilitare la cooperazione tra gli stati membri dell'unione in caso di interventi inseguito nell'imminenza di disastri sia naturali che tecnologici ambientali industriali o nelle conseguenze di terrorismo attualmente ne fanno parte 33 paesi di cui 28 dell'unione europea e tra i principali compiti di questo meccanismo ci sono quelli di fare prevenzione formazione organizzare seminari dare supporto nell'assistenza a consolare i cittadini dell'unione e fare ottenere equipaggiamento e trasporto così come avvenuti in pakistan e recentemente in nepal dove l'italia è stata tra i paesi che ha cooperato una realtà importante di grande interesse anche per la delegazione dei 13 amministratori del basso piemonte che su invito dell'euro parlamentare alessandrino daniele viotti si sono recati a bruxelles per conoscere tra l'altro in che modo la protezione civile europea interviene in favore delle regioni che hanno subito calamità naturali proprio come l'alluvione del 13 ottobre dello scorso anno che ha interessato i territori della provincia di alessandria valeria silvestri dalla presidenza del consiglio dei ministri dipartimento protezione civile oltre a illustrare i vari ambiti del meccanismo europeo ha spiegato le caratteristiche del fondo di solidarietà messo a disposizione dall'unione per l'accesso ai contributi. Il fondo di solidarietà è uno strumento dell'unione europea che permette agli stati nazionali quindi ai governi di poter richiedere una sovvenzione per coprire parte una minima parte delle spese sostenute in caso di una grossa calamità naturale che abbia colpito lo stato appunto in questione si accede per cui attraverso il coordinamento che viene fatto a livello nazionale da parte dell'ente nominato ente competente per la richiesta di sovvenzione del fondo di solidarietà. Il regolamento in vigore dallo scorso anno distingue tra catastrofe nazionale e catastrofe regionale. Per le catastrofe nazionali sono indicate delle soglie fissate delle soglie da parte della commissione per ciascuno stato e sono dei parametri che fanno riferimento al pil dello stato mentre per quanto riguarda la catastrofe regionale è fissato una soglia minima dell'1,5 per cento del pil come diciamo a montare minimo dei danni che l'evento naturale deve aver prodotto affinché si possa parlare di catastrofe regionale. Io ho invitato i sindaci del basso alessandrino diciamo colpiti all'alluvione dello scorso anno proprio perché intanto per far conoscere le istituzioni ma per dare l'idea di come l'Unione Europea intervenga anche a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi. Un paio di settimane fa, qualche settimana fa io sono stato relatore di questo provvedimento. L'Unione Europea ha stanziato 56 milioni di euro a favore dell'Italia, in particolare del Piemonte, della Liguria, della Lombardia e dell'Emilia Romagna proprio per aiutare le popolazioni colpite e le amministrazioni colpite. Presidente, la Regione Piemonte si farà da intermediario con il Governo per cercare di capire se lo Stato stanzierà qualche denaro per le amministrazioni che sono state alluvionate del basso Piemonte. Sì, i cittadini che hanno fatto l'autodenuncia giustamente e legittimamente pretendono delle risposte. Abbiamo aspettato, adesso è il momento in cui la Regione prenda questa autodenuncia e faccia un interpello esplicito, formale al Governo per capire se questi cittadini, magari aspettando ancora qualche mese, avranno soddisfazione oppure no, almeno che sappiano qual è la verità. Abile soluzioni per esodati e lavori usuranti. Sono le richieste che Cigelle, Cisle e Will rivolgono al Governo alla vigilia della presentazione del disegno di legge di stabilità. I segretari piemontesi dei sindacati si sono dati appuntamento davanti alla Prefettura di Torino, mentre iniziative analoghe si sono svolte anche in provincia di Alessandria e in tutto il resto d'Italia. Carla Ruffino. Il no del Governo Renzi a un intervento sulle pensioni non piace affatto ai sindacati, che hanno organizzato presidi di protesta davanti alle Prefetture di tutto il Piemonte per chiedere correttivi alla famigerata legge Fornero. I segretari regionali di Cigelle, Cisle e Will si sono dati appuntamento in Piazza Castello a Torino, una mobilitazione unitaria in concomitanza con iniziative analoghe in programma in tutta Italia alla vigilia della presentazione del disegno di legge di stabilità. Bisogna avere il coraggio di rendere possibile l'uscita in modo flessibile dai 62 ai 67 anni senza penalizzazioni, reintrodurre le quote anche per quanto riguarda coloro che mettono assieme anzianità di servizio e età. Bisogna trovare anche soluzioni per le donne che svolgono lavoro di cura e di assistenza in famiglia e bisogna anche mettersi in testa che non tutti i lavori sono uguali e quindi bisogna vedere anche dei canali di uscita privilegiati per coloro che svolgono dei lavori sicuramente usuranti. Sale quotidianamente il numero dei migranti in provincia di Alessandria che continua ad accoglierli. Con Franco Capone siamo andati in Cittadella ad Alessandria dove esiste un bellissimo esempio di come questi cittadini che arrivano in Italia trascorrono le loro giornate. Allora vediamo il servizio. Sono oltre un migliaio i migranti che hanno trovato ospitalità in provincia di Alessandria dall'inizio dei primi sbarchi di profughi provenienti dalle zone di guerra ed altri continueranno ad arrivare dopo l'assegnazione alla prefettura di Alessandria da parte del governo di 214 migranti. Intanto non mancano le polemiche come quelle dei giorni scorsi a Tortona dove sono stati disposti l'arrivo di 10 profughi. A questi però vanno aggiungi il trasferimento da Bassaluzzo a Tortona di 7 cittadini stranieri che verranno ospitati in abitazione a cura della curia mescovile tortonese. Ad Alessandria invece sono ospitati in case all'ostello Santa Maria di Castello oltre un centinaio di cittadini stranieri. Non tutti vivono una vita sedentaria. In Cittadella proprio ad Alessandria da mesi si alterna un gruppo di migranti che coordinati da comuni e enti locali e dall'associazione Bassalieri che ha sede nella fortezza si dedica quotidianamente a renderla più bella e più pulita. Mamadou. Mi chiamo Sidibe Bubba. Mi chiamo Keita Adam. Sono Zacharia Dumbuya. Vengo dal Mali. Zaid Khan dal Pakistan. Sono Husseini Kulibali. Vengo dal Mali. Sono Mang Maktar. Vengo dal Senegal. Nazira Hamid from Pakistan. I migranti presenti qui alla cittadella sono diciamo in un certo senso guidati dalla sezione dei bersaglieri di Alessandria che è presidente Pietro Bologna. Da quanto tempo sono qui? Sono qui prima dell'estate o perlomeno da aprile e maggio. Hanno incominciato a collaborare con noi perché si sono prestati. I uomini hanno una storia, storie particolari, storie di tristezza, storie di guerra e lo si legge anche nei loro occhi anche se lavorando assumono un altro atteggiamento e sono più contenti. Sì, assolutamente. Loro si sentivano detto proprio da loro che non fare niente come erano destinati o come erano nelle condizioni di fare. Soltanto dentro le quattro muro di un appartamento o girovagare per la città era una condizione che non accettava. Qui in cittadella se c'era qualcosa da fare si sono innanzitutto affiancati a noi a fare i classici lavori di manutenzione che noi già da qualche anno stiamo svolgendo. Tagliare l'erba, di sboscare e fare manutenzione in genere. Per concludere, c'è un detto di questi ragazzi, mangiare e bere non va bene, mangiare e bere e lavorare va bene. Sì, infatti uno di loro si è espresso in un italiano sempre piuttosto ostentato, mangiare e dormire non buono, mangiare, dormire e lavorare buono. La cronaca adesso ai carabinieri della compagnia di Novi Ligure che svolgono le indagini per individuare i componenti della banda di incappucciati che l'altra notte ha assaltato una villetta a due piani situate in località Sant'Ambrogio di Tassarolo nell'Alto Novese hanno effettuato questa mattina un sopralluogo nella zona e nell'abitazione dove al momento della rapina erano presenti madre e figlia. I rapinatori con uno spiccato accento straniero, forse romeni armati di coltello dopo essersi impossessati di alcuni gioielli e di qualche euro, non soddisfatti dell'esiguo bottino, si parla di circa 200 euro, pur di racimolare qualcosa in più non hanno esitato a picchiare la donna di 82 anni e la figlia 45enne per costringerle a rivelare altri possibili posti dove avrebbero potuto occultare soldi e preziosi. Alle urla di disperazione delle due donne i banditi sono fuggiti con l'auto delle vittime. Poco dopo sul posto sono arrivati i carabinieri al 118, mamme e figlia sono state trasportate in ospedale a Novi Ligure, l'anziana è stata ricoverata in stato di osservazione, la figlia invece è stata dimessa. L'auto rubata, una Fiat 16 è stata ritrovata dai carabinieri nella tarda mattinata a qualche chilometro di distanza da Tassarolo. Ed è ancora in prognosi riservata all'ospedale infantile Cesare Arrigo di Alessandria, la ragazzina di 13 anni che è stata ricoverata dopo essere caduta dalla tromba delle scale facendo un volo di oltre 10 metri. La ragazzina è stazionaria, sembra che stia migliorando per fortuna e su quanto è accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Casale Monferrato. Non è verso l'IVA ma per legge non è punibile se la cifra è inferiore a 100.000 euro. Così è stato assolto un imprenditore albanese che è stato anche presidente del Dertona Calcio. La storia ce la racconta Emma Camagna. Non è reato omettere il versamento dell'IVA se la cifra è inferiore a 100.000 euro. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con sua sentenza e il principio è stato applicato all'imprenditore di origine albanese Met Isa Pecetto di Valenza, accusato di non aver versato nei termini previsti la conto IVA 2008 per 59.000 euro quale presidente del Dertona Calcio è stato assolto dal Tribunale perché il fatto non sussiste. Il difensore Laura Pianezza ha fatto presente il provvedimento della Corte Costituzionale che pur essendo datato 2014 si applica a fatti precedenti come quello riguardante l'imprenditore. Lo stesso PM si è pronunciato in tal senso. Una vittoria per Isa sotto processo in Tribunale per fatti ben più gravi tornerà in aula tre volte nel prossimo anno per una serie di episodi che lo hanno anche portato in carcere. Si tratta di stalking, estorsione, lesioni e altro anche per aver preteso somme da un Alessandrino con cui si era messi in affari non andati a buon fine. Non era andata neppure bene la sua militante sportiva nel Dertona prima e nell'acqua nera poi. Non usa mezzi termini il sindaco di Acquiterme Enrico Bertero che se la prende con il piano di rientro sanitario e quindi con la regione Piemonte. L'intervista è di Bruno Mattana. Siamo con il sindaco di Acquiterme Enrico Bertero per fare il punto sull'ospedale perché c'è sempre una situazione difficile. Drammatica. Mi sento come sindaco, come cittadino preso per il naso da questo atteggiamento della giunta regionale ma non è una questione di colore. L'importante è arrivare ai risultati. Il risultato era che hanno fatto una pessima DGR a novembre ma hanno detto che dobbiamo rientrare quindi poi l'atto aziendale sarà quello che risolverà poi tutto. State tranquilli che con l'atto aziendale risolveremo il problema. Il risultato è stato che la DGR ci ha penalizzato, ci ha declassato a struttura semplice in quasi tutti i comparti e l'atto aziendale è stato ancora peggiore rispetto a quello previsto, alle aspettative. Noi ci aspettavamo. Ecco, quindi detta questa cosa qua, guardate in che modo ci stanno prendendo in giro. Non è una cosa più tollerabile. Io non sono un sindaco di destra o di sinistra. Io sono un rappresentante di istituzioni votato dai cittadini. E io ai cittadini, ai 19.484 persone che hanno firmato su 29.000 maggiorenni del nostro distretto che hanno firmato per la difesa dell'ospedale di Acqui. Io devo fare questa cosa qua. Devo arrivare a difendere. Andavamo addirittura prospettato dei risparmi concreti per riuscire. Non ci hanno neppure ascoltato. Queste cose qua è una cosa che io devo denunciare ai cittadini, alle persone che stanno seguendo questo telegiornale. noi ci siamo trovati impotenti di fronte alle decisioni regionali. Ma pensate, pensate che hanno chiesto come grosso valore aggiunto, possibilità di cerniera tra le istituzioni e la cittadinanza. Ci hanno chiesto delle osservazioni. Ne abbiamo portate. Due giorni prima avevano già adottato l'atto aziendale. Quindi guardate come ci stanno prendendo per i fondelli. Però ho letto proprio questa mattina che l'assessore regionale Saïta ha convocato i sindaci. Non so. Sì, è stato diverso. Siamo stati noi che con forza sei sindaci di sinistra su sette hanno chiesto a Saïta per favore ricevici. E Stovaldo poteva dire di no. Però l'atto aziendale l'hanno già adottato. Quindi andremo là a farci ulteriormente prendere per il naso. Non fosse così. Se non fosse così, con onestà intellettuale ti telefono, ti chiedo per piacere, guarda che mi sono sbagliato. Purtroppo non sarà così. Tanta emozione per i volontari del Banco Alimentare di Novi Ligure che a Roma hanno incontrato. Papa Francesco ha reso conto di Enrico Maria. Un momento indimenticabile, quello dei volontari del Banco Alimentare di Novi Ligure, l'importante associazione che rappresenta una indiscutibile realtà nell'Alessandrino e non solo, che nei giorni scorsi a Roma hanno potuto incontrare Papa Francesco. L'incontro col Santo Padre è avvenuto nella Sala Nervi. Ad accompagnare il gruppo c'era Stefano Gabriele, molto attivo nel mondo del volontariato e dell'associazionismo e assessore della Giunta Novese guidata dal sindaco Rocchino Mulire. L'importante lavoro del Banco in questo lungo periodo ha dovuto scontare la rigida situazione economica che ha portato da un lato la contrazione delle risorse e dall'altro l'aumento delle domande di assistenza. In città il Banco fa da collettore per la raccolta dei generi alimentari e si incarica poi del loro smistamento ai singoli attori del territorio che si occupano di chi vive in una situazione di indigenza come il circuito della Caritas la San Vincenzo per poi allargare la propria attività anche ai centri limitrofi ed oltre. E sono le cifre a colpire. Il Banco può contare sulla collaborazione di oltre un centinaio di gruppi associazionistici e sarebbero oltre 20.000 le persone che si appoggiano adesso per affrontare il problema del cibo. Lo scorso anno a Novi il Banco ha movimentato più di 100 tonnellate di alimenti. E manca poco per quello che sarà il momento più importante dell'anno. A novembre infatti si svolgerà la giornata della colletta alimentare, un appuntamento più che mai indispensabile in questo complesso periodo. Ottobre è tempo di funghi ma fate attenzione. Sentite Carlo Tarocci. Sono stati tutti dimessi i componenti della famiglia rumena rimasti intossicati dal risotto con i funghi raccolti nel parco della rimembranza sulla collina torinese, lo stesso in cui i vigili avevano emesso il divieto di raccolta per la presenza di Amanita falloide, uno dei funghi più pericolosi al mondo. I sei adulti e la bambina di sette anni che domenica a pranzo avevano mangiato il risotto, per fortuna non lo avevano condito con quello che viene chiamato l'angelo della morte, ma con un'altra specie comunque tossica ma non letale se non in grandissime quantità, l'Entoloma sinuatum. Quando sono comparsi i primi sintomi la famiglia si è presentata al pronto soccorso delle molinette dove sono stati tenuti sotto osservazione per tutta la notte. Il veleno dei funghi attacca il fegato e nei casi più gravi, come con l'Amanita falloide bastano 20 grammi per mandare in necrosi le cellule epatiche e causare la morte. E' quel che poteva succedere a un rumeno di 54 anni salvato dall'equip del professor Mauro Salizzoni che domenica mattina ha eseguito sul paziente un trapianto di fegato che gli ha salvato la vita. L'uomo, un muratore del canavese, aveva mangiato un'insalata di Amanita falloide raccolta nei boschi di Quornier. Quel fungo è in grado di uccidere in tre giorni e i primi sintomi gravi si presentano solo dopo 18-24 ore. Quando il paziente è arrivato alle molinette era quasi del tutto disidratato. Secondo i dati dell'istituto zoo profilatico in Piemonte, le intossicazioni da funghi sono la seconda causa di malattie trasmesse dagli alimenti, con 21 episodi di avvelenamento e 44 esposti solo nel 2013. Ogni anno nel reparto del professor Salizzoni, sempre nel periodo di ottobre, arriva qualche caso grave di intossicazione arrivato ormai alla necessità di un trapianto. I consigli degli esperti sono chiari, raccogliere solo ciò che si conosce bene e rivolgersi agli ispettorati micologici delle ASL che offrono un servizio gratuitamente. Parliamo di teatro e della stagione teatrale di Alessandria che sarà dislocata in tanti teatri. Riparte la stagione teatrale organizzata dall'assessorata alla cultura del Comune di Alessandria in collaborazione con le compagnie del territorio e di sostegno della Centrale del Latte della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Diversi palcoscenici che ospiteranno le rappresentazioni dal Teatro Alessandrino al San Francesco e all'Ambra, passando per il Macallè di Castelceriolo per la parte musicale. L'intento è quello di una stagione teatrale di qualità nel segno della tradizione. Per la parte del Teatro Alessandrino si conferma la direzione artistica di Massimo Bagliani, mentre a San Francesco la parte artistica sarà affidata a Gianluca Gno, quella creativa a Giù di Barone e l'organizzazione a Daniela Faletti. Per le altre sedi si è puntato ancora una volta sulle compagnie del territorio, dopo il successo delle passate edizioni. Il cartellone è ricco e variegato, per i biglietti e gli abbonamenti è ben rivolgersi alle varie sedi di teatri, ognuno dei quali offre appunto un'offerta differenziata, dalla commedia e musical, dai classici alle rappresentazioni contemporanee. Tra le varie proposte c'è anche la rassegna di teatro per le nuove generazioni, rivolta agli studenti di tutte le fasce d'età che ha lo scopo di stimolare il linguaggio teatrale tra i giovani. E' Roberto Donadoni, l'ex allenatore del Parma e CT degli Azzurri ai campionati europei del 2008, il vincitore del premio Lidlm 2015, assegnato ogni anno a Cuccaro in provincia di Alessandria. Donadoni si è distinto per il fair play nella passata stagione del campionato di Serie A. La cerimonia di premiazione si darà giovedì prossimo a mezzogiorno a Villa Bohemia di Cuccaro dove Mr. Lidlm ha abitato negli ultimi anni. Tra poco la pagina sportiva con i risultati di turno in frasettimanale del campionato di calcio di Serie D, ce ne parlerà Franco Capone, poi le previsioni del tempo e la rubrica delle notizie utili. Io mi fermo qui e vi auguro un buon proseguimento. Arrivederci.